Mucillaggini, siccità e riscaldamento delle acque sono le criticità che nelle ultime due settimane stanno mettendo in ginocchio gli impianti di molluschicoltura che si trovano tra Ortona e Vasto. Lanciare l'allarme Maurizio Di Pietro, presidente dell'organizzazione di produttori acquacoltori della Costa dei Trabucchi e Franco Ricci, presidente del flag Costa dei Trabucchi. In una nota congiunta viene chiesto un incontro urgente alla regione Abruzzo per poter valutare possibili interventi a sostegno degli operatori al fine di cercare di limitare danni considerati ormai irreversibili. Finora, viene spiegato nella nota, abbiamo perso l'intero prodotto adulto pari a 7.000 quintali di mitili e circa l'80% del novellame pari a 10.000 quintali che avrebbero generato 30.000 quintali di prodotto adulto. Continuando così, entro settembre avremo perso l'intero seme e questo significherà dover ripartire praticamente da zero con la raccolta dei prodotti per il commercio che non avverrà prima del 2026. Siamo davvero disperati. Tra le soluzioni proposte, il riconoscimento dello stato di calamità, l'individuazione di forme di indennizzo diretto o la rateizzazione degli importi dovuti al fisco e agli enti previdenziali almeno per i prossimi due anni. E ancora si chiede alle istituzioni di adoperarsi con gli istituti bancari affinché consentano una moratoria sui mutui accesi dagli imprenditori del settore.